Ma tu, mia amica di quella che stai a Monzambolo, io ho la casa di babbo e mamma, la domestica. E allora? Ma fammi capire, chi è la femmina che frequenta la casa? Ma nessuno ha la casa, signor. Ma te puoi garantire che non c'è nessuno? Ma pensi che è bello, sei tu? Non lo sai, signor. No, no. Aspetta, signor. Lo saprei io. Lo studio, lo studio del signor Salvatore, ogni tanto ci va la signora Maddalena e ti va a portare personalmente i soldi dell'affitto. E io lo saprei. Lo saprei, ma quella più stai più stai. Ma stai a parte che prima o poi la ammazzi la mamma in ospedale. Giuseppi, te lo dite? Signor, ti devo dire la verità. Ma non è mai stando fatto. Va bene, va bene. Non si porta per niente, la mezza scombenata. Ma poi avete cinque vestiti che si mette. La vedovella e la sverbugnata. Tutte scollacchiate. Non li guardate fuori. E poi si fuma. E poi? Non è mica una femmina per bene. No, che fai. Sapisci quella che c'è? E va, Giuseppi. E te ne stai un gatti una. E si, la Giuseppi. Ah, guarda. Com' sei arrabbiata anche. E ora mi esce. E ora mi la dica per questo libro. Che era tutto nudi. Tutti li sanno nudi. Stai fare un bagno dentro casa, nuda. Non lo so niente, va bene. Non c'è pozza crede. Non c'è pozza crede, nuda. Ma vada a sta fregata. Che tu vuoi vedere lo fabolo? Va forte! Scusate! Mi dico! Mi dico! Mi dico! Mi dico! Io non le faccio, nuda. Ma le finestre di casa, nesta, che fa. Che lo fa? Apro prima tutte le finestre. Da fronte la gente. Un condominio. Così. Così. Ma se di quello che succede. La festa di San D'Emilio. Quella cappella in l'acella c'è stata. Quella colpa mazzitta. È dovuta la cappara. Ma se lo metto pure l'invigile, signor. Pure l'invigile è dovuta mettere. E nuve chitte. Mentre ce lo metto la pelle. Che fa? Nuve chitte ce stavano mettendo la pelle, signor. Perché? Quello non ci arrivava bene, no? Sa faccia la finestra. Sempre di più, sempre di più. Perché non arrivava? Guarda bene. Che l'hai vista quando è lunga? Ma che c'hai pure tu, signor Ferro? Allora, ad un certo punto, BUM BUM! La boh! Io, io da foto, signor. Si è scrucciato tutte. Tutte. Che sei rotte? Che sei rotte? Che sei rotte? Di tutte sei rotte. Ma la cosa più grossa qua, la so profana, che si è descita da fare. Che si è descita da fare. Che si è descita da fare. Sacre, si dice. Sacre. Ignorante. Vatta a fare parola. Ma io te lo dite. Io mo che la traccomo di io. Perché che la deve fatica? Che ne qua, ne io la casa del babbo, ci deve fatica. C'ha ragione. C'ha ragione, signor. C'ha ragione, signor. Ma tu non mi devi via, perché ti devo parlare di una cosa che mi sta ecco, signor. Te l'arrivo di senza avere, il signor che mi ha ascoltato. No, no, Giuseppe, questa è l'ora della vendetta. Lascia male. Continuo, signor. Che cosa faccio? che è spara, l'ora della vendetta. Che è che sta esbendo. Che è questa la vendetta. Che è una vendetta, Grazie a tutti.